Va con il destro a cercare il colpo di testa, ha pareggiato l'Inter, si è inserito Andreoli. Lazio 1, Inter 1, dopo 31 minuti del primo tempo, su calcio d'angolo battuto da Brozovic, la deviazione che Befa Vargic subisce il primo gol in Italia. E invece il gol è proprio di Andreoli. E' proprio di Andreoli il tocco, tutto suo, il gol che vale il pareggio dell'Inter.